una città qua, in questa parte qua a vedere e a trovare tesoro insieme a Sam niente hanno avuto uno scontro gli abitanti di qua ladro cos'è? dai chiudo comenza devo scendere non è il tesoro moneta, argenda, beh tutto quello che c'è un altro ladro cosa è successo qui? niente dove è finito tutto Nathan Nathan, di qua ehi Nathan, guarda qui cosa c'è? soldi di libertà c'è il sigillo di Avery deve aver fuso l'oro ogni atto la sua moneta in base a questo e ai documenti sugli scaffari il tesoro era qui già ma la vera domanda è dov'è ora? l'anno spostante so ok sappiamo che hanno combattuto fuori sì e dentro pensi l'abbiano preso i coloni? no credo volessero recuperare ciò che era loro guarda ecco Avery ciò i fondatori di libertà marchiati con la parola ladro non assassino non tiranno ladro quando i coloni hanno fatto irruzione qui il tesoro era sparito sì perché questi tizi se l'erano già portato via tipico dei pirati giusto? già tipico dei pirati so dov'è cosa? dove? è una mappa? sì proprio lì c'è il tesoro è una mappa di libertà sì seguila fino al lato opposto dell'isola e guarda qui New Devon ma Avery era di Devon in Inghilterra? sì lo era cavolo quelle ville sono davvero enormi ciascuna ha il proprio sigillo perché è lì che vivevano che ne dici di salire sulla torre di vedetta? per orientarci New Devon, arriviamo allora come arriviamo lassù? come arriviamo lassù? no 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 qualcosa vi dite che ne hanno abbastanza di noi davvero? la cosa l'hai capito? qua giù, svelto! non ti fermare, vai! Nathan! Nathan! alza, dobbiamo andare! dobbiamo andare! subito! oh, oh, svelto! oddio! merda merda merda! bastardi Sam! guarda tu! arraschi che ti svolgono! eccoli, li ho trovati! oh, mamma ah, perfetto! colpata! oh, ma che cavo! torni! presto! non ti fermare! non rallentare, non ti fermare! provate! salvo! grazie ehi! corri siamo alla follia corri! aiutami ad aprire questa porta! corri! non fermarti! non! 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 che, perchè! voli! non! i bani, non! 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 domattina mi sveglierò ok aspetta aspetta la mia parola di sicurezza sempre così spiritoso i miei momenti tu e tuo fratello che siete dimostrati i migliori cacciatori di tesori dell'isola peccato non essere dalla stessa parte ci aspetta c'è ancora tempo fidarmi di un break ok è stato più agitato del previsto penso che andrò verso l'uscita dopo tutto questo credi che ti lascerò tagliare la corda sarebbe la scelta più saggia dai nadina andiamo sappiamo che spacchi i culi ma noi siamo i due non credi che i miei arriveranno tra poco mi basta guadagnare un po di tempo a meno che non vi uccida io stessa sono stanca di tuo fratello e sono stanca di te non possiamo parlarne non ci sono stanca di te non ci sono stanca di te sei veloce ma non abbastanza lasciala perdere dai dobbiamo andarcene prima che merda cerchiamo di restare calmi ok molto interessante nate samuel abbassate le armi tutti quanti no rave questo non scherzo ho niente paura nadine questi non uccidono a sangue freddo non è nel loro stile sei pronto a scommetterci la sua vita fallo dai spara sam se muoio morite con me se è destino non fare un altro passo vuoi dire così sam metti giù la pistola ti ho avvertito fallo calma state fermi non sparate metti la giù calma ok calma niente paura nadine non è nel loro stile beh non pensavo ne fosse capace sam tutto ok sapevi che saremmo arrivati a questo eh ehi calma rave ci hai catturato vacci piano sei un uomo da fare cerchiamo di trovare un accordo un accordo oh sì sentiamo cosa hai in mente avanti ti ascolto dai senti ok vuoi trovare il tesoro di averi possiamo aiutarti in cambio vi lascio vivi sì quello è una piccola parte che gran faccia tosta quanto basta per comprare la sua libertà ok libertà si è stato dentro l'ha fatto per noi e deve dei soldi a Hector Alcazar il tizio che l'ha fatto evadere oh di che diavolo stai parlando Nate Hector Alcazar è morto in una sparatoria in Argentina sei mesi fa sono stato io a liberare Samuel cosa? sape io se poteva fidare oh wow che ti ha raccontato? Sam che storia ti sei inventato Alcazar dai hai mentito hai mentito al tuo povero fratellino stiamo perdendo tempo solo un attimo la verità Nate è che non ho mai smesso di cercare questo tesoro e che mi infilavo in questi vicoli ciechi capisci? poi scopro che il buon vecchio Samuel Drake l'esperto di Avery è vivo e più o meno vegeto non c'è stata un'evasione ho corrotto il direttore e il tuo fratello è uscito dalla porta principale ha passato gli ultimi due anni a cercare la croce di San Disma insieme a te no l'ha fatto con me no oh sì sono cazzate Sam vuoi negarlo? Nate oh Sam cazzo no no senti il tesoro di Avery era nostro lo è sempre stato ho mollato tutto per te ehi no dai Nate se ti può consolare ha fregato anche me gli ha fatto un numero da Udini e ha tirato in mezzo te e quel povero vecchietto e non posso negarlo Sam mi ha fatto incazzare ma sai il passato è passato tu non lo meriti tu sì non eravamo tutti ladri che ficcano il naso nelle cose altrui Rave cosa? scegli tu come finirla o lo farò io hai sentito la signora perdi anche solo un indizio e puoi dire addio al tesoro hai detto tu infili nei piccoli ciechi ammettilo Re fai bisogno di noi hai ragione hai quasi ragione mi serve solo Sam e stai facendo un errore no 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 Grazie a tutti